La cosa più importante in questo momento non è il mio futuro, sino il futuro della mia squadra, di tornare alla fine di questo campionato con la qualificazione in Europa e dopodiché parlare con totale tranquillità con la società per vedere cosa sarà migliore per l'Inter. Non c'è nessuna fretta, non c'è nessun problema come ho visto o sentito da parte di qualcuno con il nuovo presidente, anzi c'è un dialogo sempre molto spesso con delle grandi idee, valutiamo alla fine di questo campionato cosa sarà il meglio per me e per la società. Sempre e solo nell'Inter comunque? Sì, io credo che il mio legame con questa società dopo 20 anni rimarrà sempre, al di là di tutto quello che accadrà in futuro.